Questa qui, eh? Adesso facciamo un passeggiato per qui sotto e vediamo cosa possiamo ammirare. Sì, è una valla dell'Oriente. È grande, eh? Questo si chiama monastero. Allora, è grande. Adesso lascio la bici di qua e facciamo una bella passeggiata. Andiamo e facciamo un оно per la posizione dell'Oriente. Allora, ciò che fate. Ah, scénico quello, la nata. Ah, scénico quello, faccio. Non, 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 non. Grazie.